Sono Cristina Toso, sono consigliere comunale della città di Padova e assieme a Mario Dalmolin vi video invitiamo alla mostra ideografica dell'Europeade. L'Europeade, ma cos'è l'Europeade? L'Europeade è un grossissimo convegno che si è svolto a luglio a Padova, nei primi giorni di luglio, dal 11 al 15 di luglio. Ma chi ha partecipato? Hanno partecipato circa 150 gruppi di tutta Europa, gruppi folcloristici che ci hanno portato la loro vitalità in questi cinque giorni a Padova. Allora gli interventi di Europa sono possibili attraverso il folklore? Ma certo che sì, noi per ricordare quell'avvenimento abbiamo pensato di fare una mostra fotografica di ben 100 immagini che sarà divisa in due e che sarà praticamente 50 immagini sul cortile pensile e 50 immagini sul sottopasso della stua. Allora venite tutti sabato 15 dicembre alle 13 al cortile pensile di Palazzo Moroni per la prima mostra dell'Europeade. E la seconda mostra invece sarà venerdì al 21 dicembre alle ore 18.30 al sottopasso della stua. E allora tutti insieme brinderemo buon Natale e buon Europeade. Buon Europeade, certo.